C'è una partita molto tosta e fisica, sapevamo che loro erano avanti un sogno di punti e sapevano che lottavano come i leoni. Abbiamo preparato una partita fisica, al primo tempo ci viene andato dentro e siamo riusciti a imporre il nostro gioco e abbiamo preso anche un pallo. Il secondo tempo invece siamo un po' stati messi sotto, però a 6 minuti dalla fine siamo riusciti a trovare il vantaggio con un calcio d'angolo, calciato da Aaron. Borden ha fatto la sponda e Marti si è trovato sul secondo palo e ha segnato 1-0. E niente, siamo riusciti a portare a casa i tre punti e adesso ci impegniamo per sabato che arriva il Brixen e avanti così. Grazie a tutti!